Passiamo alla settima domanda, sto sudando, si vede? Qual è stata la tua reazione quando sei entrato per la prima volta a San Paolo con la Maglia del Napoli? E Domenico, era... Che ti posso dire? Come hai detto prima, giocando a San Paolo con la Maglia del Napoli si provano delle emozioni uniche e ora stanno dei miei amici... Dei sempre fastidio, dai, come in campo sulle punizioni, dai sempre fastidio Ma io devo fare delle interviste... Ragazzi, hai visto cosa succede nello spogliato del Napoli? Sono cose che queste capitano tutti i giorni Posso lavorare, Giorginio, Milic e Mertens? Grazie, pai, grazie Comunque giocare a San Paolo con la Maglia del Napoli è una grande emozione Spero che, come ho detto prima, se voi ragazzi di Napoli avete questo sogno rincorretelo, che facendo sacrifici si possono realizzare i sogni Grazie 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 Grazie